salve a tutti permesso come legge dal titolo questo è un video bonus un video bonus che ho deciso di realizzare quando abbiamo raggiunto i 5.000 iscritti che era a cavallo tra natale e capodanno però vicissi tutti i nevari deliri nel lavoro sono riuscito a realizzarlo solo adesso che abbiamo già superato i 6.500 iscritti quindi grazie ancora con questo video voglio annunciarvi finalmente la nascita del club soluzioni green che cos'è come funziona dove si trova lo scopriamo subito in questo video quindi non perdiamo altro tempo metti mi piace e cominciamo grazie grazie di cuore non posso non iniziare questo video ringraziandovi perché abbiamo raggiunto un altro traguardo 6.500 iscritti se il gruppo prosegue di questo ritmo penso che a fine febbraio dovremmo superare 10.000 iscritti allora lì sì che ci sarà davvero una sorpresa una chicca molto importante molto probabilmente se stai guardando questo video è perché sei già iscritto al canale perché difficilmente la gente cerca su youtube il gruppo soluzioni green ed è proprio grazie a te ed altre migliaia di persone come te che ho deciso di realizzare questo gruppo cercando di venirvi incontro mandiamo con ordine su questo canale ho realizzato già più di 120 video e sotto ogni video fortunatamente c'è sempre un dialogo un commento una richiesta di un consiglio da parte vostra e sono sempre stato io il primo a dire se avete qualcosa scrivete nei commenti però più cresce il canale più i commenti iniziano a essere davvero tanti e rispondere a tutti i vari commenti inizia a diventare non tanto pesante perché non è pesante però porta via tempo e molto spesso la risposta è quasi un copy incolla uno dell'altra perché molto spesso capita che la domanda che mi ponete sotto un video già altre persone mi l'hanno posta in altri video ed è proprio per questo motivo qua che ho deciso di realizzare questo gruppo facebook altra cosa molto positiva legata ai commenti è il fatto che a volte si genera proprio un vero proprio botta risposta una discussione costruttiva per individuare tra tutti i vari membri quale può essere la soluzione migliore per darsi un consiglio a vicenda e visto che il confronto è reciproco è fondamentale perché solo grazie al confronto all'informarsi a vicenda posso andare a individuare il prodotto giusto lo sapete già a memoria ho deciso di realizzare questo gruppo facebook perché perché facebook mi dà la piattaforma migliore per quello che voglio realizzare infatti all'interno del gruppo ho deciso di realizzare un ambiente di confronto sia per utenti che per le aziende proprio per incentivare il dialogo io purtroppo e per fortuna non sono nessuno non sono onnisciente su tutto posso anche sbagliarmi in alcuni video è già successo che sbaglio determinati valori o vengo mal interpretato all'interno invece di questo gruppo qua il confronto tra più persone porta risultati sicuramente più affidabili quindi se avete dubbi perplessità anche relativi a un determinato video da oggi potrete porre direttamente all'interno di questa community di questo club ovviamente vi risponderò ma anche altre persone all'interno del gruppo potrebbero rispondervi darvi dei suggerimenti dei consigli e non finisce qua infatti sul gruppo spesso posterò alcuni articoli alcune riflessioni utili per incentivare incrementare la collaborazione reciproca perché molto spesso non riesco nel video a trasmettere tutto quello che voglio trasmettere infine l'ultimo utilizzo che si può fare in questo gruppo qua è semplicemente farmi vedere impianti banalmente avete un impianto fotovoltaico una pompa di calore fate la foto la condividete per far vedere per creare un club trovo che sia importantissimo far sentire la nostra voce il fatto che noi utenti aziende stiamo realizzando una vera e propria rivoluzione energetica siamo tante piccole gocce che all'interno dell'oceano iniziano a farsi sentire la green economy le aziende irrinnovabile sta davvero prendendo piede e si sta prendendo piede molto spesso e grazie a gente come te che ha creduto nel fotovoltaico quando era i albori che è stato il primo a installare una pompa di calore nella propria zona che ha acquistato una batteria di accumulo ai tempi che furono ed è grazie anche ad aziende come la soluzione green che la green economy sta prendendo piede perché sì l'80 per cento dei consulenti in realtà sono venditori ma questo qua l'abbiamo capito e spesso quando mi confronto con voi viene proprio fuori che riuscite anche voi a intuire spesso che davanti a voi non avete un consulente ma un venditore ma ci sono comunque tante aziende serie sul territorio e sono proprio su queste aziende qua che bisogna fare affidamento per realizzare gli impianti per andare a riqualificare a migliorare casa questo club questo gruppo nasce proprio con questo scopo aiutarci a vicenda come privati come aziende a creare una rete un dialogo per migliorarci reciprocamente infine vi chiedo solo una piccola cortesia se potete se siete disposti a spendere due minuti del vostro tempo per andare sulla pagina facebook di cui link trovi in descrizione o all'interno del gruppo per lasciare un commento una recensione chiamatelo come volete per descrivere un pochettino che cosa avete imparato grazie al canale come vi è stato utile e anche soprattutto cosa bisogna migliorare quali sono gli argomenti di cui vorreste che realizzassi un video per esempio perché ripeto non sono onnisciente quindi se mi fate questo piacere qua queste recensioni dove fate vedere cosa avete imparato cosa posso migliorare mi farebbe davvero piacere grazie ancora di tutto ci vediamo allora poi nel video bonus dei 10.000 iscritti vediamo quando quando ci arriviamo alla prossima ciao